Buongiorno a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi andremo a fare un unboxing di un obiettivo della Fujifilm con i primi test su questa lente per capire un po' come funziona. Ma prima di andare a scoprire di che obiettivo si tratta, dovremmo ringraziare RCE Photo, che è il più grande mercato italiano dell'usato, che offre usato garantito per qualunque brand. Sono proprio loro che ci hanno spedito a casa e permesso di poter provare e recensire per voi questo obiettivo. Ma andiamo a scoprirlo in questo unboxing. Ma andiamo subito ad aprire la scatola. Allora, come al solito troviamo il solito libretto di istruzioni, il solito panno, come ormai siamo abituati, la scatola, come possiamo vedere, è analoga alle altre due aperte di lente Fuji, ma dentro passiamo al contenuto e troviamo appunto la lente e il suo relativo paraluce. Paraluce solido, ben costruito, come tutti quelli Fuji. Cosa carina è che sul paraluce c'è scritto i millimetri dell'obiettivo, così se dovessimo avere più lenti è facile trovare subito il paraluce corrispondente. Passando invece all'obiettivo, eccolo qua, pure lui molto solido, molto ben costruito. La ghiera dei diaframmi è veramente fluida. Come costruzione dobbiamo dire che è analoga a quanto visto sul 56mm f1.2, quindi comunque una lente premium, una costruzione decisamente premium. La differenza però è del 56mm, dove la ghiera della manual focus è sempre ruotabile per mettere a fuoco in manuale e in automatico, qui hanno deciso di separare le cose. Quindi per passare al manual focus, questa ghiera qui dovrete tirarla verso di voi, quindi verso il basso, e a questo punto si attiverà il manual focus e compariranno anche le tacche della distanza per la messa a fuoco. Quindi molto comodo per chi decide di utilizzarla in iperfocale o comunque vuole avere le tacche della distanza. Inoltre il fatto di separarlo tirando su e giù evita di prendere per sbaglio dentro e muovere il fuoco se stiamo utilizzando l'autofocus. Quindi le due cose sono separate e la troviamo un'ottima scelta. Pure qua la ghiera fluidissima gira bene e molto molto morbida. Passiamo all'attacco sulla fotocamera. Baionetta solita in metallo, ma a differenza del 56mm questo presenta una protezione in gomma, proprio come il 23mm che abbiamo recensito, che rende la rente tropicalizzata. Troviamo che sia fondamentale durante i viaggi per evitare l'entrata sul sensore di polvere e sporchi vari. Specialmente per macchine come queste, mirrorless, dove non c'è uno specchio che protegge il sensore, avere questa protezione aggiuntiva è necessario. Passando invece alla lente frontale, eccola qui, una bella lente. Vediamo che ha questa leggera bombatura per evitare troppa distorsione agli angoli. È comunque una lente f1.4, quindi molto luminosa, ma nonostante questo il diametro è di solamente 67mm, quindi rimane comunque abbastanza compatta per la luminosità che porta dentro. E l'obiettivo è comunque compatto, leggero, perché parliamo di solamente 375g. Per una lente di questa luminosità non è affatto male. Un 16mm comunque ci permette di avere un bel campo di fuoco, insomma, perché equivale a circa un 24mm sui full frame, quindi una lente abbastanza versatile per i paesaggi. Non versatilissima come può essere un 35mm, perché comunque è più una lente orientata appunto al paesaggio, ma comunque ci permette un'inquadratura interessante. Andando a confrontarlo con le dimensioni con il 56mm risulta leggermente più grosso. Non me lo aspettavo sinceramente perché uno è f1.2, l'altro è f1.4, uno è più lungo come campo di fuoco e l'altro è un po' più wide. Mi aspettavo più grosso il 56mm, invece è più grosso il 16. Cumplice il fatto di una costruzione un po' migliore, appunto tropicalizzata, e probabilmente uno schema ottico che non permette di ridurre le dimensioni più di così. Ma comunque parliamo di dimensioni molto contenute, non diventa mai una lente eccessiva. Con il paraluce montato pure vediamo che le dimensioni rimangono contenute, non esagera mai. Quindi un po' l'aspetto e l'unboxing della lente l'abbiamo fatta. Andiamo ad analizzare invece dei primi scatti che abbiamo iniziato a scattare per provare questa lente, passando come al solito il nostro test fare dalla massima apertura, quindi in questo caso f1.4, a scendere man mano di step, quindi f2, f2.8 e poi f5.6, per vedere un po' la differenza di nitidezza, come va tra le varie focali. In questa schermata li vediamo da sinistra verso destra, con un crop del 200%, per andare a vedere un po' la differenza di nitidezza, la tutta apertura al diaframma un po' più chiuso. Come possiamo vedere la nitidezza è sempre ottima, parliamo sempre del centro, qua nel centro fotogramma, è un crop delle immagini che avete visto prima. La cosa che posso notare io, al di là della nitidezza sì che cresce un po' sulla scritta, è il microcontrasto che migliora parecchio chiudendo il diaframma. Vediamolo anche qui in questo crop del 400%, ecco qui si apprezza meglio la nitidezza sulla scritta Fuji, è molto più incisa chiudendo il diaframma, ma comunque è buona anche a f1.4. comunque è molto aperto ed è una lente wide, quindi non ci si aspetta una nitidezza estrema con un crop del 400%, invece devo dire molto bene. Andiamo a vedere invece come si comporta la vignettatura, sempre chiudendo il diaframma possiamo vedere alla tutta apertura, effettivamente una leggera vignettatura ai bordi, neanche così estrema per essere un f1.4, che già sparisce quasi del tutto a f2 per sparire definitivamente a f2.8 e f5.6, è perfetto su tutto il fotogramma. Passiamo ora invece a un confronto con la lente che più si avvicina come i millimetri tra quelli che abbiamo recensito, che è il 23mm f2. Andiamo ad analizzare il centro in un crop del 400%, decisamente più nitido. Entrambe le foto sono scattate a f2.8, quindi per analizzare non la tutta apertura di entrambe, perché non hanno la stessa apertura, ma portandole a f2.8 ed è molto molto più nitido al 16mm. È una lente che costa anche quasi il triplo, quindi ce l'aspettavamo. La differenza di incisione è anche qui di microcontrasto, quindi la differenza di contrasto è veramente evidente tra le due lenti, così anche come l'incisione. Analizzando la stessa immagine con un crop leggermente meno spinto a f5.6, vediamo che comunque le differenze ci sono anche andando a chiudere il diaframma. Specialmente, pure qua, la nitidezza diventa molto confrontabile, il contrasto continua ad essere diverso. Guardate la brillantezza della scritta Fujinon a sinistra, dove è il 16mm, rispetto a destra, dove è il 23mm. Per questa recensione del Fujifilm 16mm F1.4 RVR è tutto. Ringraziamo di nuovo RCE e grazie anche a tutti voi per aver visto questo video. Un saluto da The Italian Maker.